Ciao splendore! Come stai? Io spero davvero tanto 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 che tutto proceda per il meglio come sempre te lo auguro di cuore ma 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 se così non fosse spero davvero tanto di riuscire a farti un po' rilassare e liberare la mente dai brutti pensieri questo è un video un po' improvvisato e infatti penso si noti anche un po' dalle condizioni dei miei capelli un po' arrangiati semplicemente perché sta facendo veramente tanto 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 caldo registrare con 37 gradi non è semplice soprattutto quando devi fare video smr e non hai condizionatori in casa ma solo un ventilatore per di più un po' messo male e quindi è veramente difficile registrare però lo faccio perché ci tengo e nel caso adesso non so neanche quando pubblicherò questo video ma probabilmente durante il mese di agosto pubblicherò meno video del previsto per poi riprendere con 3 alla settimana nel mese di settembre ma adesso la dico così ma non ho idea di come si evolveranno le cose dipende da quanto riuscirò a produrre comunque comunque oggi che sto registrando è 27 luglio quindi siamo proprio in piena estate e si sta facendo sentire molto molto il caldo ho deciso appunto di fare un video poco impegnativo per evitare di affaticarmi troppo perché lo sono già abbastanza e voglio fare un video che è tutto a tema lead sound più la mia voce che accompagnerà il tutto ho preso velocemente alcuni parattoli, alcune cosine da utilizzare e quindi iniziamo dal primo che praticamente ormai il prodotto è terminato però il parattolo fa davvero un bel rumore ed è questo della Fructis Hair Food in particolare questo è all'aloe vera molto molto buono è una maschera a triplo uso ve l'ho già fatto a vedere tempo fa in alcuni video praticamente fa sia da balsamo che da maschera oppure può anche essere utilizzata come trattamento senza risciacquo sia con capelli bagnati che con capelli asciutti è davvero molto molto buono il profumo di questa maschera che rimane per giorni fino al prossimo lavaggio in sostanza io li lavo ogni 4 giorni salvo magari giornate in cui magari vado al mare quindi immergo tutti i capelli nell'acqua e per forza di cose devo rilavarli anche se magari sono passati solo due giorni dall'ultimo lavaggio comunque io ho provato tutte le modalità di questa maschera a triplo uso appunto e mi sono trovata bene in tutti i modi niente da dire di negativo ma alla fine sono cose soggettive che variano da persona a persona quindi bisogna provare per capire se quel prodotto è adatto alle nostre esigenze oppure no ce n'è poco poco di prodotto e davvero il profumo mi piace un sacco questa ha proprietà idratanti quindi perfetta anche per l'estate dove i capelli sono sottoposti a troppe fonti di calore qui da me sto facendo un'umidità insopportabile quando c'è umidità io soffro tantissimo di dolori nella zona cervicale sto proprio tanto tanto male infatti avanti ieri boh veramente stavo impazzendo fortunatamente poi tra medicinali massaggi eccetera ce l'ho fatta ma dopo diverse ore è pesante davvero qui c'è un caldo molto molto affoso umido appunto che è peggiore è cioè Grazie a tutti. Ora facciamo con il mio booster al retinolo. Grazie a tutti. 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 A me piace tantissimo lo smalto rosso, cioè metterei sempre solo quello. Poi ovviamente dipende da come mi devo vestire, ma potendo scegliere mi piace tanto il rosso. Ok. Poi abbiamo anche il suono del tappo dei rossetti mulac, che mi piace tantissimo e tra i miei preferiti. Ok. Provo a lasciarli sciolti un po' all'indietro i capelli. Quindi questo video finirà penso abbastanza presto, mi dispiace, giusto per tenervi qualche minuto di compagnia, ma davvero mi sa che oggi non ce la faccio a continuare oltre. Anche perché prima ho registrato un video più elaborato, quindi adesso vengo già da un'ora di registrazione intensa e si fa sentire la fatica. Questo rossetto è Drama Joke, che utilizzo più d'inverno come colorazione. Poi, poi, poi ho preso questo parattolo della crema viso di Dottor Organic, che in realtà è una crema destinata a quando faccio... video ASMR perché ero così entusiasta quando l'acquistai ormai un bel po' di mesi fa, ma non sopporto questo odore perché sarebbe ai sali del mar morto. E veramente non ce la faccio a tenerlo addosso sul viso. Ho provato diverse volte perché odio sprecare i prodotti, però niente, allora, sai quando faccio video ASMR di skincare o cose di questo tipo, invece di usare le creme buone, diciamo, anche se questa è una crema buona, però invece di usare le altre creme utilizzo questa. bella la creme delle città che fai con i capi trovato tomata da Roma e ciucche senza trovare le bambine. se faccio vedere la creme del consapevole queste cose che fai con i pioli, la creme delle storie senza trovare le materiale, a fare la creme della creme di fai con i pioli e le sei mai mai fa, però non vale la creme di bambine. Danni a fare le dolore che non sa fermatevole via la creme di servizia, spiello, mi하ia lo sembrano ma francese, ne concedere la creme di sviluppare, è una creme di seriamente di un po' di nuovo, grazie a tutti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' un burro struccante www.mesmerism.info www.mesmerism.info Molto bello questo suono Mi piace tanto È nel splendore, mi dispiace ma è arrivato il momento di chiudere questo video Spero semplicemente di averti tenuto un pochino di compagnia Di averti fatto un po' rilassare con questi suoni e con la mia voce Ti mando un bacio grande 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 E ci vediamo presto in un prossimo 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 video ASMR Ciao